Sei stato a contatto con una persona che ha il coronavirus? Hai l'ansia che il tuo tampone possa essere positivo? E qui posso aiutarvi io con questo splendido tutorial. Come prima cosa dovete munirvi di questo fantastico oggetto, indossarlo, mettere la mascherina e andare a fare il tampone. Eri, il tampone? Mi segue. Prego. Non si usa subito. Si abbassi la mascherina. Posso andare? Sì. E l'esito del tampone sarà sempre negativo.